Sono molto contento di essere arrivato qui a Catanzaro, abbiamo iniziato il ritiro e diciamo che io come tutta la squadra siamo carichissimi e vogliamo iniziare bene questa fase di ritiro perché comunque sono i giorni più importanti per preparare al meglio la stagione e sicuramente poi l'affronteremo nel migliore dei modi. Sì, sì, sono abruzzese come il mister e quindi diciamo ci siamo ritrovati qui a Catanzaro perché comunque io il mister non lo conoscevo quando mi ha chiamato sicuramente a parte il fatto che comunque veniamo dalla stessa città c'è stata da parte mia subito una volontà perché comunque conosco i suoi principi di gioco, conosco le sue idee e quindi mi sono subito detto che secondo me poteva essere la scelta migliore perché mi piacciono i suoi concetti, mi piacciono le sue idee. E quindi la mia scelta finale è stata soprattutto per queste cose qui. Quanto riguarda i compagni di squadra mi sembrano da questi pochi giorni iniziali, mi sembrano tutti dei bravissimi ragazzi e comunque la testimonianza del fatto che l'anno scorso hanno raggiunto un risultato importantissimo e sappiamo che per raggiungere determinati risultati oltre alle qualità tecniche e alle qualità fisiche ci vuole un grande gruppo per vincere un campionato e quindi sì, un'impressione sicuramente positiva. Adesso devo conoscere i per bene ma sicuramente giorno dopo giorno ci conosceremo. Sicuramente giocare con giocatori come Berna, come Sunas, come Ghion, come Pontisso con cui ho già giocato a Pescara è sicuramente una cosa che ha qualunque giocatore per aiutare perché sono tutti giocatori che io conosco e che reputo forti e quindi io spero di poter dare una mano e di rendermi disponibile, partecipe e sicuramente giocare con loro per me sarà bello. Ma io sono comunque sì un centrocampista e ho iniziato a giocare da piccolo che ero un attaccante, un trequartista, comunque un giocatore più offensivo rispetto ad adesso. Poi con il passare degli anni alcuni allenatori hanno deciso di mettermi un pochino più dietro, di farmi giocare appunto da centrocampista e secondo me questa è stata la scelta migliore perché io adesso mi trovo molto bene a giocare qui, in questo ruolo e secondo me rendo anche di più rispetto a giocare più avanti. Nel centrocampo di questo Catanzaro comunque mi vedo dove vuole il mister, io sono a disposizione e devo semplicemente pensare ad allenarmi bene, a dimostrare appunto quando mi verrà data la possibilità, dovunque mi mette il mister. Un saluto a tutti quanti di posti del Catanzaro, spero di vedervi presto allo stadio e niente, questo. Un abbraccio a tutti, forza Catanzaro!